Ristorante di Sofia Loren, quanto costa? Prezzi sul menu. All'età di 88 anni Sofia Loren, tra le attrici italiane più amate in tutto il mondo, ha deciso di dedicarsi al mondo della ristorazione. Ha aperto, di recente, il restaurant original Italian Food di Milano che si trova nei pressi del Duomo. Ad essere precisi, si trova in via Cesare Cantù, copre 400 metri quadrati con ben 150 coperti. Il ristorante di Sofia Loren si compone di tre sale, di cui una riservata agli eventi privati. Lo stile d'Eors del locale, con colori brillanti e accesi, stanze luminose e diversi quadri che la ritraggono, rendono l'ambiente unico. Una delle sue più grandi passioni, oltre al cinema, è sempre stato il cibo. Molti di voi ricorderanno la sua frase storica, tutto ciò che vedete lo devo agli spaghetti. La sua passione per la buona tavola non sorprende. Ciò che sorprende sono i prezzi del menù. Lasciano a bocca aperta. Più che, il ristorante, la Loren ha deciso di aprire, i ristoranti in giro per l'Italia, una vera e propria catena di ristorazione che porta il suo nome. Sofia Loren pensava a questo progetto da diversi anni. Con la società di Luciano Cimmino, il desidero di Sofia è diventato realtà. Quanto costa mangiare nel ristorante della Loren? Considerando che il menù è molto vario, cerchiamo di sintetizzare. Il coperto costa 3 euro. Tra gli antipasti, segnaliamo pietanze di terra e di mare. Dalla parmigiana di melanzane a 14 euro al tris di tartare di pesce a 24 euro. Sempre per gli antipasti, si passa dal fritto a 6 euro ad un chilo di mozzarella zizzona di battipaglia che costa 48 euro. Il pescato del giorno viene proposto a 9 euro a letto. I primi piatti portano la firma del grande chef Gennarino Esposito. Si può scegliere tra spaghetti e il pomodoro del Piennolo a 16 euro agli scialatielli e ai frutti di mare a 25 euro. Per la pizza, c'è da considerare che è firmata dal famoso pizzaiolo campano Francesco Martucci. Si passa dalla pizza Margherita a 13 euro fino a pizze più elaborate da 23 euro. I dessert sono realizzati da Carmine di Donna. È impossibile recarsi al ristorante di Sofia Loren senza assaggiare i dolci sapori di Napoli. Le sfogliatelle costano 4 euro. Nel menù, una birra alla spina da 400 millilitri costa 5 euro, mentre una bottiglia di acqua minerale da 750 millilitri 3 euro. È inutile dire che i prodotti sono tutti di altissima qualità, ma diciamolo ugualmente. Che ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie. 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 Grazie.